Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io ragazzi continuo a non capire le intenzioni della Roma di quest'anno, il mercato che sta facendo la Roma quest'anno, perché anche il Sharawi parte, va a giocare in Cina e sembrava in realtà che la cosa fosse saltata qualche, forse una settimana fa, una dieci giorni fa, poi in realtà questa squadra, che non mi ricordo nemmeno il nome, si è ributtata prepotentemente sul giocatore e si è appunto portato a casa. Nelle casse della Roma andranno 18 milioni di euro, mentre invece il Sharawi firma un contratto quinquennale, se non sbaglio, da 15 milioni in anno, quindi cifre molto, 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 molto importanti, non mi ricordo se il triennale o il quinquennale, comunque un contratto abbastanza lungo. Parte per 18 milioni ragazzi, io sinceramente non capisco, come detto, il mercato della Roma. Allora, il Sharawi, giocatore che comunque l'anno scorso è stato il capo cannoniere della squadra, nonostante giocasse da esterno. Giocatore che comunque è nel giro della nazionale, che si gioca al posto con giocatori più forti, un Chiesa, un Bernardeschi, un Insigne, va bene. Però comunque è uno di quei giocatori che può giocarsi le sue carte anche nazionale e essere uno dei favoriti, diciamo, fra gli esterni per andare all'europeo della prossima estate, chiaro. Dipendeva poi dalla stagione che avrebbe fatto quest'anno, però comunque è già nel giro della nazionale. Perché andare in Cina a 27 anni per buttare via tutte le possibilità che hai a livello di carriera? Allora, io sono convinto che fra un paio d'anni il Sharawi tornerà a giocare in Europa, io non è che lo metto in dubbio quello. Però ora era la tua chance di cercare di crescere ancora, cercare di continuare a dimostrare di essere un pilastro della Roma. E sinceramente questa scelta mi lascia veramente molto, molto scettico. Ma a parte il discorso riguardante il Sharawi. La Roma che vende 18 milioni, un giocatore come il Sharawi, che come detto ha fatto al capo caroni l'anno scorso, sì, è altalenante, però comunque è uno di quei giocatori che ha sempre la giocata. Se si accende è difficile da marcare e lo vende a 18 milioni. Quando onestamente 18 milioni io credo che se la Roma volesse buttarsi sul mercato per cercare di prendere un altro esterno, ci prendi forse Gervinio dal Parma, cioè un giocatore che l'anno scorso ha fatto bene e quindi giustamente le richieste delle squadre sono alte. 18 milioni è poco, nel senso che non hai nemmeno la cassa per cercare di puntare a un altro giocatore. O vai su un prestito con diritto o obbligo di riscatto, o comunque vai su un giocatore che effettivamente non è più di una scommessa. Come detto un Gervinio, un Orsolini, Orsolini 15 milioni dalla Juve, cioè capite che 18 milioni per il Sharawi, che è un giocatore affermato, che da anni gioca ad alti livelli, perché ha giocato nel Milan, hanno giocato nel Monaco, ha giocato la Champions diversi anni e lo vai a perdere per una cifra così bassa, sinceramente mi sembra follia. Ora, non è che il Sharawi è uno di quei giocatori purtroppo che ha poco valore, però è anche vero che è un giocatore che, secondo me, è un 25 milioni, potevi andare a cercare di prenderli, che non è una cifra così esorbitante, però è qualche milioncino in più, che può far comodo per poi investire sul mercato. Anche perché comunque il Sharawi, secondo me, era una delle poche certezze che la Roma aveva sugli esterni, perché, consideriamo, vabbè, Under a me piace molto, però la scorsa stagione, da quando si è infortunato, non è più rientrato, veramente. Perotti che è in uscita, Klaivert che l'anno scorso ha deluso, quindi non puoi affidarci assolutamente gli esterni di fascia titolari. Insomma, dovrai andare a investire, perché Perotti comunque è in uscita, prendere almeno un paio di esterni e non hai fatto veramente quella cassa di cui hai bisogno per cercare di appunto investire, perché sennò ti ritrovi come l'anno scorso, cioè come quest'anno anche, in cui poi devi vendere entro giugno, fare delle plus valenze che poi magari ci vai anche a perdere perché vedi bene con Manolas che alla fine lei l'ha dato via relativamente poco, e quindi chiaramente devi fare dei sacrifici e da lì devi ricostruire da capo, e onestamente mi sembra abbastanza inutile. Ora, ripeto, la Roma potrebbe decidere di prendere un anno di transizione, però in questo modo qua è anche difficile, perché comunque ti serve compensare in quei ruoli dove stai facendo uscire qualcuno, e di conseguenza mi sembra abbastanza inutile. Onestamente non capisco né la scelta del Sarawi né la scelta della Roma stessa. Il Sarawi sì ha 15 milioni di ragioni l'anno per pensare di andare in Cina, però stai buttando via una carriera. Tu hai 27 anni, sei nel pieno della tua maturità, perché comunque la maturità del giocatore si raggiunge appunto tra questa età e i 30 anni, secondo me quella in cui sei al top della forma. E tu stai andando a farla in Cina, dove sinceramente le ambizioni sono minime, sono quelle appunto economiche, dal punto di vista economico. Quindi reputo veramente senza senso questa scelta della Roma e questa scelta di El Sarawi che ora dovrà la Roma investire di nuovo sul mercato per cercare di coprire quel buco che ha lasciato appunto El Sarawi. E secondo me non sarà semplice, perché se vai da una qualsiasi squadra in cui un esterno ha fatto una buona stagione e lo vai a pagare veramente tanto. Quindi non reputo veramente sensato assolutamente niente di tutto quello che è successo, niente di quello che sta facendo la Roma, però l'unica forse cosa intelligente è stata Spinazzola prenderla al posto di Pellegrini. Però capite bene che una squadra che si sta indebolendo così tanto ha anche poca appetibilità, già non fa la Champions, fa l'Europa League e gli altri sinceramente capisco anche bene che guardino Roma come una piazza non fra le preferite, ecco. Poi dipende magari se prendi giocatori dalle piccole, però se le prendi dalle piccole non sono più discommesse. Quindi è veramente veramente difficile secondo me l'evolversi che sta prendendo il mercato della Roma e difficilmente potrà migliorare anche perché tanti giocatori sono in uscita. Gecko, Perotti, Zonzi, qualche difensore centrale, Marcano si è parlato che potrebbe andare via. Insomma, c'è tanto da fare, tanto da fare per la Roma e poche risorse economiche per farle. Non so veramente come se la sbrigheranno. Detto questo, ragazzi, il video è finito. Io vi invito a mettere un mi piace se volete altri video di questo tipo. Vi invito a scrivermi nei commenti la vostra riguardo al Sharawi che va in cima e vi invito a inscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa che cade nel mondo del calcio. Detto questo io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo prestissime. Un nuovo video.